Ciao a tutti! Oggi prepareremo la zuppa di funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono funghi misti, latte, vino bianco, olio evo, farina, burro, scalogno, sale, pepe, dado bimbi e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 50 grammi di funghi e l'olio. E li facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità, soft. Mettiamoli da parte. Senza lavare il boccale, mettere lo scalogno e tritare per 3 secondi a velocità 7. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo i funghi e facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità, soft. Aggiungiamo il vino e facciamo sfumare per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità, soft, senza misurino. Chiudere con il misurino e frullare per 20 secondi a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il dado, la farina, il latte, il sale, il pepe e cuocere per 15 minuti, 100 gradi, 100 gradi, anti-orario, velocità, soft. Aggiungere il prezzemolo e frullare per 20 secondi a velocità 8. La zuppa è pronta. Trasferiamola in un piatto da portata e decoriamola con i funghi e un po' di prezzemolo tritato. Zuppa di funghi Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!